La Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova, uno dei principali capolavori della storia dell'arte mondiale, è stata portata qui grazie a una mostra a Treviso al Collegio Vescovile Pio X. Siamo all'interno della chiesetta del Collegio Vescovile Pio X di Treviso in compagnia del dirigente Simone Ferraro. Ecco, siete riusciti a portare in questo straordinario scrigno dell'arte di Treviso un altro scrigno di rilevanza mondiale, la Cappella degli Scrovegni di Padova di Giotto riportata grazie ad una mostra. Sì, abbiamo colto l'occasione di portare a Treviso questa straordinaria esposizione, una mostra della Cappella degli Scrovegni in scala 1 a 4, una riproduzione fedelissima del capolavoro giottesco e intorno a questo abbiamo costruito un progetto molto articolato grazie alla collaborazione dei nostri docenti e al grande entusiasmo dei nostri ragazzi che hanno accolto con grande partecipazione questa proposta. Gli studenti sono i protagonisti di questo progetto perché anche loro potranno raccontarlo ai visitatori di questa esposizione? Sì, sono i protagonisti sotto molti punti di vista, innanzitutto in quanto guide alla mostra per i visitatori, visitatori che possono accedere liberamente durante la giornata ma anche e soprattutto le scuole che hanno aderito e che partecipano in orario anche scolastico e per le quali i nostri ragazzi della scuola superiore fanno da guida e poi anche i ragazzi della scuola media perché attraverso un progetto di Tableau Vivant hanno reinterpretato, studiato e reinterpretato gli affreschi di Giotto dando loro una nuova vita e poi anche gli studenti della scuola primaria come visitatori e quindi come apprendisti diciamo così di questa proposta. È un progetto nato in collaborazione con la regione Veneto in un contesto di un progetto più ampio che si chiama Giottofa Scuola ed è un progetto che prevede appunto anche l'alternanza scuola-lavoro e quindi il convigilmento diretto dei ragazzi come protagonisti principali perché a loro è rivolto, per loro è costruito e a loro è affidato il compito di portarlo alla popolazione e di farlo conoscere a tutti.